Salve ragazzi e ben ritrovati su Pokémon Rosso Fuoco Nuzlocke Randomizer! Nel precedente episodio abbiamo abbattuto Gary e tutti gli allenatori del percorso a nord da Celestopoli e abbiamo anche liberato Bill dal corpo di Clefairy. Quelli sono comunque dettagli a parte. In ogni caso, in questo nuovo episodio ci concentreremo di più nella lotta in palestra contro Misty e principalmente ad uscire da Celestopoli perché avremo altrettante cose da fare. Intanto, vi ricordo come al solito di lasciare un bel pollicione in su per questo nuovo episodio di oggi e di commentare sotto con l'hashtag DDG rispondendo alla domanda del giorno. Dunque, alla nostra destra... Palestra di Celestopoli. Ehi, aspirante campione, un consiglio. Il capo palestra Misty usa Pokémon di tipo acqua. Sè, come no. Ed è infallibile, ma puoi assorbirne l'acqua usando Pokémon di tipo erba o fulminarli con l'elettricità. Beh, sicuramente, guarda. No, comunque, non so il genere di Pokémon che avrà Misty, pertanto entreremo nel vero senso dell'avventura. Perché, come vedete, intanto ci sono due allenatori prima di Misty. Un nuotatore. Lewis, nuotatore, con One Pole. Vabbè, se c'hai tutti i Pokémon di tipo Coleottero, guarda, mi fai solamente un favore, carissima Misty. Usiamo Osso Boomerang. Come potete vedere, ho allenato... E' salito di due livelli, semplicemente Lifstorm. Si trova a livello 25. Niente di che. Mentre Spike è rimasto com'era, semplicemente. Mamma mia, se mi traia. Ma che caspita, brutto colpo e mi arriva a togliere due PS, stenta. Ma quanti... Poi... Ok, non è molto efficace, l'ho già capito. Sono cinque colpi subiti. Facciamo Osso Boomerang e chiudiamola lì, dai. Ciao One Pole. O War Pole. Ok. Perfetto. Ultimo Pokémon del nuotatore. Eevee, quindi mettiamo in campo Spike, in modo tale da usare una mossa di tipo lotta. Che ne so, tipo un movimento sismico. Va bene anche... Oh no, dai. Movimento sismico va benissimo. Non capisco perché sta mossa è efficace, è non super efficace, dato che è una mossa di tipo lotta. Boh, vabbè. Tam, tam. Ok. Perfetto, KO Eevee. Diciamo che il primo allenatore è stato molto molto facile. Adesso stiamo a vedere la prossima allenatrice, se non sbaglio è femmina. Credo di... Sì, femmina. Ok. Intanto lì c'è anche Misty. Ma prima c'è lei. Ehi. Sono troppo forte per te. Misty non ti dovrà neppure scomodare. No, ma ne sei proprio sicura? Carissima. Cosa sei, una picnic girl? Sì, Federica. Ciao Federica. Con Crobat. Beh, Crobat è un pokémon parecchio forte, però... Non so... In che parte si potrebbe immedesimare in questa lotta. No, pugno rapido. Sei proprio... Non troppo forte, ecco. Intanto lo addormento e poi uso Magifuoco. Perché mi va? Voglio essere ribelle. Magifuoco e fallisce, giustamente. Ovviamente, non... Non avendo mosse... Cioè, Leafstorm non è che ha Magifuoco di suo. Pertanto, le mosse molto probabilmente falliranno per la maggior parte delle volte. Quindi... Ci si dovrà fare l'abitudine. Probabile. Chiudiamola con un'idropompa, dai. Lui continua con colpo. È grande! Stavolta va a segno. E ciao, ciao, Crobat! Quasi livello 26, Leafstorm. Stiamo a posto. Allora, stiamo quasi per finire la palestra di Celestopoli. Ovviamente non finisce qui, perché in questo nuovo episodio faremo tante altre cose. Arriveremo anche ad Aranciopoli. Insomma, vedrete, restando con me. Ok. Curami. Grazie. Tan tan tan. Perfetto. Possiamo ritornare in palestra. Ok, se per caso ve lo state chiedendo, sì, Xilia è stata depositata. Quindi non c'è nel team. Ok, Leafstorm Spike. Lasciamo Leafstorm come primo. Ciao, non t'ho mai vista da queste parti. Gli allenatori professionisti devono avere una strategia per i loro Pokémon. Come ti comporti quando catturi i Pokémon? La mia tattica è di attacco totale con i Pokémon di tipo acqua. Ah, stiamo un po' a vedere allora questi Pokémon di tipo acqua in cosa si sono trasformati. Bene, Nat. Bene. Pokémon di tipo coleottero con firmed. Ve l'avevo già detto all'inizio della palestra. Bene, bene, bene. Magifuoco. Ma guarda. Guarda caso ho anche delle mosse di tipo fuoco con dei Pokémon di tipo erba. Oh mio Dio. Ciao Venonat. E' quasi livello 26. Ultimo, ma non per importanza, Mike Tiena. Uhu. Ok, non proprio tipo coleottero, ma anche tipo buio. Che si fa? Facciamo un bel idropompa. Scagliamo io l'addosso. E' particolarmente efficace perché sì. Dragodanza aumenta velocità e attacco. Ma non gli servirà assolutissimamente a niente. Perché? Perché sono anche, oltre ad essere più veloce a sputtanarlo con le statistiche boostate, riesco anche a mandarlo KO con un idropompa. Vai, vai! Quindi, livello 26, Lipstorm. E basta. Stiamo salendo a vista d'occhio. Pertanto, sì. Abbiamo vinto all'interno della palestra di Celestopoli. Quindi, grazie misti. La medaglia cascata indicherà che mi hai sconfitto. Oh, eh già. Che brutta notizia, vero? Con la medaglia cascata tutti i Pokémon ti obbediranno fino al livello 30. Anche quelli ottenuti negli scambi. Inoltre potrai usare Taiyo anche fuori dalla lotta. Ok. Quindi, otteniamo anche la MT-03 che dovrebbe contenere Idropulsar. Sì, ok. Beh, Idropulsar è una MT molto forte. Quindi, mi sa che ci farò un pensierino su qualche altro Pokémon. Non so quale, ma ci farò un pensierino. Curiamo generalmente i nostri Pokémon. Cioè, non abbiamo avuto bisogno nemmeno di cure, pozioni, superpozioni e quant'altro. Quindi, sì, è stata molto, molto easy, facile. Molto, molto facile. Intanto, prima di andarmene, volevo fare una cosa dentro questa casa. Perché, non lo so, è stata una casa derubata, scassinata e non in caso qui c'è una recluta. Ehi, fuori, chi? Io sono un semplice passante. Aha, sì. Quindi, dovremo battere lui. Perché adesso lo vedrete. Recluta. Facciamo in fretta, così andiamo subito via a fare altre cose. Facciamo so Boomerang. Bye bye Merrill. E, prossimo ed ultimo Pokémon, Blissey. Ok. Ci siamo? Ecco Blissey. E, 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 e. Cosa facciamo? Facciamo, facciamo. Sempre ho so Boomerang. Anche se Blissey ha una difesa enorme. E, vabbè, si sa. Oddio Raffica. E, caspita. No, vabbè, comunque lo riesco a reggere un altro, un altro Raffica. Quindi. Di nuovo so Boomerang. Brutto colpo e bye bye Blissey. Sono sempre io quello a sottomettere gli altri. Ok. Stop, mi arrendo, me ne vado in silenzio. Eh già, faresti anche la miglior cosa. Ok, restituirò la MT che ho rubato. Dark recupera la MT 28, che non so cosa contiene, sinceramente. La MT 28, fino a prova contraria, cioè lui ha smarrito fossa. Quel che ho perso è perso, così insegnato a Diglett a scavare fossa senza MT. Fatemi verificare se è davvero fossa oppure è cambiata. MT, abbiamo detto. Bagliore. Breccia? E breccia? Oddio, breccia. Bagliore frustata col poco da fanghi. Allora, o è breccia, perché non l'avevo ancora presa, vista. E, o bagliore. L'unica. O breccia o bagliore. Vabbè. In ogni caso buonissima. Anche se doveva essere fossa, però. Breccia, ancora meglio. Dunque ragazzi, allora. Siamo quindi riusciti a vincere in palestra. Abbiamo portato a termine un bel po' di cose qui a Celestopoli. In ogni caso adesso non finisce qui perché dovremmo ancora fare una cosa. Innanzitutto comprare delle Pokéball perché ci stiamo avvicinando in un altro percorso. Ci stiamo avvicinando ad Aranciopoli, tanto per dire. E ci sono altre zolle d'erba. Quindi, 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 quindi. Andando a sud della città. No, devo proprio uscire da questa parte. Eh già. Facciamo un giro largo. Ancora largo. No, ma dove caspita? Ah, devo proprio uscire di qua? Non mi ricordavo. Scusate ragazzi. Ok. Credo... No, no, ehi. Stavo quasi per andare là. Qui c'è l'alberello. Che ha poca importanza. E poi, sì. Potremmo proseguire da questa parte. Siamo al percorso 5. Dove potremmo catturare un nuovo Pokémon. Credo di sì. Quindi mi sa che... Sì, andiamo qua. Ci sono le zolle d'erba. È l'unica. Siamo un po' a vedere cosa esce fuori. E ooooooooh. Moltres! Non ci credo! Ragazzi, è stato... È stato il nostro starter. Uno dei nostri starter. A confronto. Con Spike. Mo' sono riuscito a beccarlo nell'erba. Non ci credo. Oddio. Cosa faccio? Il fatto è che è un Pokémon leggendario. Capite? Quindi, a parere mio, non lo so. Sembra difficilissimo. Sembra. Non lo so. Ci posso provare? Ci posso provare. Allora, moto addormenti. Perché uso sonnifero. Bravo. Meglio così. Dopodiché, cosa succede? Ti attacco con osso boomerang. Spero di non mandarlo KO. No, aspetta. Non ha effetto. E che caspita faccio? No, devo sostituire allora. Vai Spike. Entra tu. Oh, Moltres si è svegliato. E usa veleno denti. A questo punto andiamo di sassata. Boh, dovrebbe fare danni. Spero non troppi. Sassata. Vai. Super efficace. Oddio, no. Lo sapevo, lo sapevo. Sono stupido. Vabbè, poca importanza, ragazzi. Non do peso a queste cose. Perché tanto non... Non l'avrei inserito comunque nel mio team. Ragazzi, si parla di Pokémon leggendari. Non mi va di giocare con i leggendari. E questo è il fatto. Ok, qui cosa abbiamo? Ah, la pensione. Ok, no. Non ci serve. A questo punto dovremo proseguire da questa parte. Via Sotterranea, Celestopoli, Aranciopoli. Un tunnel che collega ambedue le città. Basta, Dark. Mi lascio trasportare facilmente dai ricordi. Lo dico sempre più e più volte, però... Cosa vogliamo farci? Percorso 6! Ok. Percorso 6. Quindi dovrei catturare un nuovo Pokémon qui. Teoricamente. Non so cosa possa... Cosa possa esserci. Cosa... Possa saltare fuori. Spero qualcosa di decente. Che almeno non sia Pokémon leggendario o quant'altro. Mi interessano dei Pokémon da mettere nel team più che altro. Perché non so. Sono molto indeciso tra i Pokémon che ho e nessun altro. Perché non so che Pokémon trovare nell'erba. Ok. Caposnizzle. Donphan. Facciamo che restiamo con Leafstorm. Sì, perché ho Idropompa. Quindi non ha senso sostituire. E Idropompa. Dai. No, dai. Non puoi missare adesso. Caspita. E dai. Idropompa. No, no, ma... Fallisce ancora. Odulazione, sì. Aspetta. Dai. Ah, mi confonde pure. Che devo fare? Uso una... Una... No, no. Non ho nemmeno le cure. Sono poverissimo. Dai. È confuso. Prova ad attaccare almeno... No. Niente. Zero. Continua con leggimente. Voglio attaccare. Voglio attaccare. Ok. Idropompa. Hydropompa. Quindi, capo Donphan. Ne ero più che sicuro, quindi... Stavo aspettando il momento esatto che... Ehm... Il momento che Leaf... Leaf Stormheart accassa, ecco. Ok, allora. Ultimo Pokémon. Doduo. Ho letto bene. Sì, esatto. Doduo con Keigo Pia Mosche. No, vabbè. Doduo con Pio Vischio, no, però... Ma non mi potete mettere un Pokémon così con Pio Vischio. Ma scherzate. Vabbè. Tuono Shock. Super efficace, quindi... Bye, bye. Tanti saluti Doduo. Dadadadadadadau. Bene. Vinciamo su Keigo Pia Mosche. Allora, adesso direi di andare a vedere immediatamente il prossimo Pokémon. Non lo so. Attenzione. Pokémon del percorso 6. Suspense. Non ci credo. Pigeot. Ragazzi. Pigeot. Oddio. Pigeot. Allora. Davvero non me l'aspettavo Non me lo sarei mai E dico mai aspettato Ma oh mio dio Sono riuscito a trovare Pidgeot Signori Pidgeot Allora Pidgeot tu sarai mio Ok Che sia ben chiaro Corpo scontro Anche perché servirà principalmente per volo Quindi cercherò di catturarlo principalmente Facciamo un movimento sismico Non dovrei shottarlo Almeno spero Oddio Ho paurissima No ok Rapigiro Va bene Riusiamo un movimento sismico Dovrei ridurlo ai minimi punti vita E ok Perfetto Ha anche breccia Regà è perfetto Ha pure breccia E Pokéball Dai La cosa che mi preoccupa di più è che non occure Uno Due Tre Quattro Oddio Primo colpo Ragazzi mi sento dio Mi sento dio Ho catturato Pidgeot al primo colpo con una pokeball Assurdo Ok Pidgeot Allora bisogna dare un soprannome a questo Pidgeot Come al solito non so che soprannome dare Quindi taglio tattico E si ritorna Tra pochissimo Bene ragazzi Allora ho deciso di chiamare Pidgeot Kaito Adesso vi spiego cosa vuol dire Kaito Dove sta la T Kaito Eccola qui Fatto Allora diamo il benvenuto a Kaito Allora Kaito dovrebbe significare Volare Salire in cielo Spiccare il volo In In giapponese Quindi È un tipo volante Che lo rispecchia Quindi ho deciso di chiamarlo Kaito Natura vivace Con Rapigiro Corpo scontro Brecce Pioggia danza Oddio raga È perfetto Grande Quindi Terzo membro Finalmente Ci sono riuscito a fare integrare un altro pokemon Probabilmente lo allenerò anche in off camera Chi lo sa Eh Senza volerlo C'è un altro pokemon Grimer Wow Tanto entusiasmo per questo pokemon Allora adesso vorrei fare una cosa Prima di Guardate cosa faccio Non sto evitando questi allenatori Ok Voglio semplicemente andare Ad aranciopoli per curarmi Perché? Perché mi trovo in una situazione molto drastica Con i pokemon del team Ho paura che vadano K O No non mi dite che questi qua li devo affrontare per forza No Per favore Ah Dannazione È solamente uno però Dai No problem Almeno credo Flavio Con nidoran maschio Ehm Facciamo Cosa facciamo Magifuoco Faccio Devo fare qualcosa Per mandargli K o Fare un hit che io Dai No dai Ok grande Sono riuscito a scottarlo Per fortuna Bye bye Nidoran maschio Poi Non hai mai avuto il desiderio di brucia Di una Il desiderio bruciante di lottare di nuovo con gli allenatori già incontrati Io si molto spesso Appunto per questo lei ci regalerà il cerca sfide Beh se siete in assenza di lotte Perché non cercarle con questo dispositivo Eh Sembra un ottimo promoter Bene Possiamo andare via Sì Tranquillamente Aranciopoli torno subito Oh Devo battere questi allenatori qui Non preoccupatevi Allora Dato che Leafstorm sta allenatissimo Direi di prendere il condivido esperienza E Darlo A A Kaito Ovviamente Fatemi Fatemi Sapere con un commento Cosa ne pensate del soprannome Di Pidgeot Se vi piace Kaito Se non vi piace Se vi fa schifo Se avevate qualcosa di meglio Non lo so In ogni caso Mettete anche un bel mi piace Per Sostenere la serie E ovviamente un commento generico Con L'hashtag DDG Rispondendo alla domanda del giorno Io ve lo ricordo sempre Isabel Picnic Girl Con Carvagna Facciamo sempre Osso Boomer No Fallisce Dolce bacio Grazie mille Non dovevi Carvagna Mamma mia Dai Caspita E fallisce Boato Grazie No 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 Kaito no no però Per favore Mettiamo Spike A sto punto Boato Oh ecco Oh antisuono Quindi ti attacchi al cap Eh eh Cosa Non ho sentito bene Ciao ciao Carvagna Quindi Prossimo Pokemon Slowking Si continua Dato che Spike Ha tuono shock Quindi Vai Ancora di tuono shock Sto velocizzando Perché abbiamo Altre cose da fare Non fateci Assolutissimamente Caso Zangus Continuiamo E usiamo Psicolancio Smettila con sto lag Stupido emulatore E via Zangus Perfetto Allora ragazzi Kaito sarà livello 17 E Si Primo livello di Kaito Bene 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 Adesso si lo so Prima di andare A battere gli altri due allenatori Volevo fare una cosa Un'esploratina generale Di aranciopoli Perché abbiamo da prendere alcune cose Ad esempio qui Sono il guru pescatore Adoro pescare A te piace la pesca? Si Ottimo Mi piace il tuo stile Prendi questo E pesca Coraggio E otterremo l'amo vecchio Da questo Buon vecchio pescatore Come il tuo amo Del resto Grazie mille Quindi Allora Qui giù invece Cosa c'era? Aspettate un attimo C'era il pokemon fan club? Mi pare di si Si Pokemon fan club All'interno Parlando con Questo vecchietto Con questo gentiluomo Sono il presidente Del pokemon fan club Ho più di 100 pokemon Sono molto pignolo In fatto di pokemon Bene Vuoi sapere tutto Sui miei pokemon? E va bene Stupendo Allora ascolta Il mio pokemon Il mio preferito È rapidash È grazioso Carino Veloce Incredibile Non trovi? È sorprendente Simpatico Mi piace tanto Se lo abbraccio Quando dorme È così caldo E morbido È spettacolare Fantastico Ops Guarda che ora è Ti faccio fare tardi Grazie per l'attenzione Prendi questo E quindi otterremo Il buono bici Tanto per sottolineare Quello che ha detto Questo Questo Tipo stranissimo Che se abbracci Un Un rapidash Non ne esci Almeno con un ostione Di primo grado Una roba del genere Ok Ciao Hai snorlax? Vuoi scambiarlo con Markrow? No Che sfortuna Poi In seguito Qui abbiamo la palestra Palestra Di aranciopoli Capopalestra Lit Surge L'americano Fulminante E penso Nient'altro Già che siamo al Pokemarket Direi di comprare Delle cure Perché non ne ho Purtroppo non approdano Ancora le megaball E vorrei Semplicemente Uccidere Il Il cassiere Là dietro Perché non hanno Niente Vediamo Cinque No Sono troppe Magari tre Ok Bene così E basta Non vorrei che Anche gli strumenti Del pokemarket Fossero randomizzati Perché davvero Potrebbe essere Un grande Grandissimo Problema Forse il problema Più grande Ok Ignazio piglia mosche Con Hopip Ciao Hopip Adesso ragazzi Cosa dovremmo fare Dovremmo ritornare Caspita Perché mi dimentico Che non ha effetto Magifuoco Stavo dicendo Dovremmo ritornare A Celestopoli Per Prendere la bicicletta È normale Ci hanno dato Il buono Ed è giusto Così Leafstorm Sala al 28 E vinciamo su Ignazio Ciao Ignazio Alla prossima La 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 Loro mi sfidano Sì Chi va là Smetti di origliare Ma io Non ho detto niente Parte la sfida Di Ricky Campegista Con Zangus Ok A volte Alcuni di voi Mi hanno Mi hanno chiesto Zangus O Seviper Perché Tra questi due Pokemon C'è sempre stata Una certa competizione Beh Qual è il momento Migliore Per rispondere Beh Se non adesso Direi che Preferisco Di gran lunga Zangus In ogni caso Perché è molto più Figo E molto più forte Secondo me Kaito sarà Livelo 18 E basta Possiamo andare avanti Sì C'è lei Scusa Ma è una conversazione Privata No Ma guarda Ma non mi sto mica Ambicciando Guarda la Domenica Picnic Girl Lui era sabato Non ho letto bene No ok Basta fare Se battute Squalidacce Per favore Osso Boomerang Che Ah neutralizza Perfetto Grande proprio E allora facciamo Hydro pompa Hydro pump Tant'è efficace Falce cannone Standler Con falce cannone Ma scherziamo Dai Via Ciao Standler Prossimo ed ultimo Pokemon Wartato Wartato Carinissimo Pure lui Fatemi vedere Una cosa Non avevi No però A breccia A breccia Dai Mettiamolo Mi fido di Kaito Vai Kaito Wartato Facciamo Breccia Breccia Si Toglio un bel po' Contropiede Aia No Breccia Ancora Mamma mia Che bello Meditazione Si si Medita Medita Breccia Tanto sono pure Più veloce Madonna come godo Si Perfetto Riceviamo tutti Questi bei punti esperienza Che fanno salire Kaito A livello 19 Guarda come farmo In questo episodio Mi sento Dio Mi sento No vabbè Comunque Devo proprio dire Che ho avuto Molta molta fortuna In questi episodi Ehm E meglio così Ragazzi Meglio così Taradanadan Taradanadan A questo punto Dovremmo dirigerci Un'altra volta A Celestopoli Vabbè tanto siamo qui Quindi non penso sia un problema E nulla Anzi Prenderemo la bici La bicicletta E successivamente Chiuderemo l'episodio Ovviamente Ritornando Ad Aranciopoli Perché? Perché quello lì Sarà il nostro punto Di salvataggio Questo è il negozio di bici Parlando con lui Oh È un Buono bici Bene È tua Darks cambia il buono Per una bicicletta Ok Tutto così easy Facile Niente di importante Voglio dire Insomma Dove sono le bicicletta? Anzi Dove è la bicicletta? Bicicletta Assegna Oltre ad assegnarla La uso Perché devo andare via Fuggi Fuggi Scappa Corri Madonna Quanto è lenta La bici Qui Ok Posso comunque Velocizzare Adesso non mi ricordo Però il tasto Per assegnare Che caspito ho fatto? No Questa è la guida Aspetta Zaino Bicicletta No Che caspito ho fatto? Sono Sono stupidissimo Dai L'odio Questa bicicletta Odio anche Celestopoli E le sue staccionate Stupidissime Trollose Ok Bene ragazzi Allora Prendiamo la bicicletta Per l'ultima volta Basta Siamo arrivati qui Al varco Anzi al sotterraneo Dovrebbe No La bicicletta funziona Qui sotto Se non sbaglio Sì Credo di sì Mi ricordo che qui sotto Facevo schiudere pure Le uova Ah Che bei ricordi Pokémon rosso fuoco E verde foglia Ah Bene ragazzi Ci ritroviamo qui Al percorso 6 Beh che dire Aranciopoli ormai E nulla Noi ci salutiamo Per questo episodio è tutto Salviamo qui ad Aranciopoli Nel prossimo episodio Faremo tante altre cose Ci saranno altre catture Passeremo per Per la grotta di Iglet Se non sbaglio Non vorrei sbagliare C'è la MN Anna Abbiamo Avremo altri Tanti allenatori Da battere Tantissime cose Quindi voi non mancate Assolutissimamente Io vi aspetto Col prossimo episodio Di Pokémon rosso fuoco Nazlock randomizer Ricordatevi Come al solito Di alzare i pollicioni In su Per questo episodio E di commentare sotto Con l'hashtag DDG Rispondendo alla domanda Del giorno Nulla Dark vi saluta Ci si becca Col prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.